Sei un tecnologo alimentare? Allora saprai che hai l'obbligo di conseguire nel triennio almeno 35 crediti formativi e non meno di 10 crediti l'anno. Gli iscritti che non rispettano l'obbligo formativo sono sanzionabili con censura, sospensione o radiazione. Icotea è stata accreditata quale agenzia di formazione presso il Consiglio Nazionale dei Tecnologi Alimentari. Formati con Icotea, iscriviti ai corsi accreditati su misura per te. Dopo aver superato la prova di verifica finale ti saranno convalidati da Icotea i crediti formativi professionali indispensabili per il mantenimento dell'iscrizione presso il Consiglio dei Tecnologi Alimentari. Digita www.icotea.it Menu percorsi formativi Vai su Formazione Continua Ordini Professionali Clicca Consiglio Nazionale Ordine Tecnologi Alimentari Ojos Icotea�i Alimentari